eccoci qua eccoci qua ciao a tutti sono di nuovo qua con la nostra veronica veronica rossi ciao veronica ciao massimo e ciao a tutti gli ascoltatori allora veronica è una psicologa ma è anche scrittrice perché ho scoperto che è uscito un suo libro recentemente che adesso poi andremo a vedere il tema interessante se vuoi faccio vedere subito così ss abbuffata perché come mantenere diciamo come non abbuffarsi queste malgacione che mi seguono si sbaffano barattoli di nutella ogni volta che hanno una delusione sentimentale ma visto che diciamo sei psicologa e ti occupi appunto di relazioni sentimentali tra l'altro ricordo che se anche una youtuber perché anzi lascerò il link del canale andate iscrivervi al suo canale che è psicologia con ironia esatto bravissimo psicologia con ironia che è interessante sempre la psicologia e l'ironia messa assieme quindi lascerò il link andrete a iscrivervi che fa dei video interessanti e stiamo parlando di coppie diciamo di delusioni sentimentali magari nella tua casistica cioè so che tu comunque interagisci sui social o comunque in generale con pazienti eccetera quali sono le problematiche sentimentali più sentite nelle coppie diciamo e magari visto il tuo libro non è che queste malgacione quando sono delusi in amore iniziano a sbappare il cibo sono due aspetti strettamente collegati se ci racconti un po' queste cose diciamo così vediamo un attimino allora partirei un po' dalla prima domanda quindi quali sono i problemi che più rivedo e riscontro nelle coppie quindi perché le coppie vanno in crisi perché si litiga allora prendendo in considerazione le coppie sposate mi viene subito da dire che molto spesso le coppie vanno in crisi per via delle famiglie di origine dei rispettivi partner e questo purtroppo è un grosso problema nel senso che una volta costituita la coppia il partner dovrebbe essere più compagno o compagna marito o moglie che figlio dei propri genitori invece molto spesso questo non accade quindi rimane una sorta di legame alla famiglia di origine che molto spesso poi si sente anche in diritto di poter intervenire all'interno della coppia però ovviamente molto spesso crea delle problematiche molto importanti guarda voglio subito si interrompo subito un secondo perché vi è una domanda spontanea ma secondo te se un uomo diciamo sposato o comunque conviveso ma con una relazione importante se si crea un conflitto tra la madre e la compagna chi vince secondo te? questa è una bella domanda purtroppo nella maggior parte dei casi perlomeno parlo per la mia esperienza ovviamente vince la madre nel senso che nel momento in cui l'uomo mantiene ancora un legame molto forte con la madre si trova in difficoltà ad allontanarla ad estrometterla dalla vita di coppia proprio perché prova un senso di colpa nel farlo e quindi preferisce mantenere quel tipo di legame piuttosto che mettere in salvo la coppia quindi si trova un po' tra i due fuochi ahimè poverino mi viene da dire però in quel momento tendenzialmente propende più dalla parte della madre ovvio non è sempre così ci sono stati casi anche in cui gli uomini hanno preso le proprie responsabilità allontanato la madre o il padre e invece secondo te in coppie magari un po' più datate diciamo quando il conflitto avviene tra un partner e i figli dell'altro partner ad esempio come 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 chi tende a prevalere secondo te cioè questa è una dinamica ancora più complessa nel senso che il figlio è è un è un legame molto forte e il figlio generalmente è di un'altra persona cioè è del partner e un'altra persona e quindi in questo caso c'è anche diciamo il fantasma di quell'altra persona i figli non sempre ben accettano di buon grado il nuovo partner o la nuova partner e io immagino un padre e una madre che si trovano comunque a dover decidere tra virgolette tra il bene dei figli e il proprio bene molto spesso mettono da parte il proprio benessere la propria felicità in favore di quella dei figli anche questo non accade sempre perché viviamo molto spesso delle donne che o uomini che abbandonano i figli in favore della propria vita a volte mi capita di vedere c'è posta per te la domenica sera il sabato sera e se ne vedono di queste storie quindi però la statistica diciamo statisticamente io credo che i figli abbiano la prevalenza diciamo credo sì sicuramente sì 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 statisticamente parlando ovviamente il genitore tende a proteggere i figli è un amore che va oltre l'amore per se stessi e quindi c'è questa sorta di protezione cioè ai figli ci si dedica e quindi ci si dedica anche la propria vita e di conseguenza le proprie decisioni certo certo e quindi stavi dicendo scusa se ti ho interrotto io per provare a questo punto insomma sì e poi altre motivazioni per cui le coppie vanno in crisi ce n'è una ma la tengo per ultima i cambiamenti i cambiamenti ovviamente che intervengono nella coppia ce ne sono alcuni di positivi quindi che magari portano la coppia a crescere altri invece che destabilizzano soprattutto quando il cambiamento arriva da un solo partner e lì si va un po' a sbilanciare un equilibrio che invece si era creato per esempio il cambio di lavoro o anche lo spostamento proprio della sede di lavoro e quindi si cambiano i ritmi si cambia la quotidianità e quello va molto a destabilizzare la coppia un'altra cosa che mette un po' in crisi è quando c'è la rottura di quelle regole implicite che la coppia si dà nel senso ci sono alcune regole che la coppia si dà esplicitamente quindi se le dicono i partner per esempio se mi tradisci io ti lascio quindi una parte sa che se insomma se tradisce verrà lasciata anche qua bisognerebbe di nuovo capire entrambi forse avevamo accennato addirittura mi sembra molto scorsa che cosa si intende per tradimento esatto uno poteva intendere andiamo fuori al ristorante e guardo il culo della cameriera e tu pensi che ti ho tradito esatto anche questo bisogna capire cosa vuol dire tradimento e poi ovviamente quando per esempio il partner fa qualcosa che non ci si aspettava se ci troviamo il marito o la moglie che da un giorno all'altro finisce in carcere per una rapina per esempio ecco senza andare nell'eclatante ma a volte anche le cose semplici che però sono inaspettate quindi quei fulmi al ciel sereno che mettono un po' la persona in discussione quindi cominci a vedere l'altro come uno sconosciuto quasi no? perché ha fatto qualcosa che non ti aspettava magari i debiti di gioco esatto sì 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 le mogli che scoprono il marito che è un giocatore che ha addirittura una dipendenza dal gioco ecco tutte queste cose qui possono mettere un po' a repentaglio il benessere di coppia e poi ovviamente torniamo sempre lì il tradimento il tradimento è quello che più delle volte fa scoppiare la coppia perché non tutti riescono a perdonare lo prendono come un attacco alla propria persona nella realtà il tradimento è un attacco alla coppia un attacco alle dinamiche di coppia cioè io tradisco perché nella coppia non mi sento bene perché non ci voglio più stare nella coppia ma non so come farebbero uscirne ecco sono queste le motivazioni più che altro perché avviene il tradimento però tendenzialmente lo si prende sul personale quindi mi ha tradito perché ho fatto qualcosa che non va mi ha tradito per farmela pagare in realtà il tradimento è un attacco alla dinamica di coppia qualcosa che non funziona all'interno della coppia ma potrebbe essere anche magari un tradimento esclusivamente per una trasgressione perché magari all'interno della coppia le dinamiche emotive si sono affevolite oppure tu intendi tradimento proprio come costruire una relazione parallela sì e ci può essere anche il caso in cui all'interno della coppia non ci sia più una complicità a livello sessuale molto spesso purtroppo nelle coppie di lunga data i rapporti sessuali cominciano ad essere un po' diradati e a volte uno dei due partner un po' subisce questa cosa e cerca di sopperire a questa mancanza altrove e questo accade spesso altre volte invece accade proprio che il tradimento poi si trasforma in una nuova relazione però in quel caso lì non è che si cerca una nuova relazione per fare del male alla persona semplicemente non c'è più amore per il partner per la moglie o per il marito e quindi si esce dalla storia tradendo senti volevo chiederti tu nel tuo osservatorio diciamo di psicologa eccetera questa dinamica della diminuzione della passione o dell'azzeramento della passione io ho letto diverse cose su questi temi per esempio le neuroscienze dicono che da tre mesi 18 mesi è il tempo diciamo di vita naturale della passione poi se non subentrano altri fattori insomma decade naturalmente tu dal tuo osservatorio è uno dei problemi principali secondo te o secondario cioè il fatto di non provare di vedere l'altra persona diciamo come un fratello o una sorella te diciamo questo sì in realtà è un problema molto sentito e però fa parte della natura umana nel senso che ci sono delle fasi della vita di una coppia che sono quelle non si possono cambiare assolutamente e hanno dei tempi come giustamente hai detto tu c'è la fase del corteggiamento la fase iniziale nella quale prevale la passione la passione erotica il desiderio di contatto con l'altro l'idealizzazione dell'altro anche perché abbiamo bisogno di vederlo perfetto no? e quindi è tutto bello tutto profondamente eroseo poi c'è la fase dell'innamoramento e anche lì c'è ancora passione però si cerca più il contatto fisico non necessariamente di tipo sessuale non necessariamente di tipo erotico e via via invece quando il rapporto si va a consolidare quindi col tempo prevalgono altre dimensioni le dimensioni affettive la dimensione del sostegno quindi diciamo che l'aspetto sessuale l'aspetto erotico viene sostituito invece dall'aspetto emotivo ma è qualcosa di biologicamente determinato siamo fatti così come si dice no? e questo si vede più nella donna perché la donna è più orientata all'aspetto emotivo quindi è più orientata all'amore romantico rispetto all'uomo questo proprio perché biologicamente l'uomo e la donna sono diversi sull'aspetto emotivo e quindi anche in questo questo cambiamento nel corso del tempo è più evidente nella donna che nell'uomo proprio perché appunto sono tarati diciamo su due aspetti un po' diversi cioè stai dicendo che diciamo l'uomo cioè il desiderio rimane più attivo nell'uomo o nella donna non ho capito sì nel senso nell'uomo tendenzialmente il desiderio rimane attivo per più tempo diciamo è più è meno visibile questo cambiamento nel corso delle fasi di coppia che comunque ha anche l'uomo questo cambiamento c'è nell'uomo nella donna però è meno visibile meno identificabile nell'uomo nella donna è più visibile anche qui statisticamente parlando perché non è tutta la vita è statistica ma senti invece tu diciamo se viene una coppia da te per dire e ti dice dottoressa abbiamo problemi passionali così insomma tu che suggerimenti daresti per dare diciamo aiutarli a ritrovare quella passione che magari quella attrazione che si è persa c'è qualche ricetta magica c'hai qualcosa ricetta magica purtroppo no mi dispiace deluderti e deludere tutti però diciamo che innanzitutto bisogna capire i motivi per cui questa questa passione si azzera del tutto perché in alcuni casi ci sono coppie che sono totalmente estranee dal punto di vista sessuale cioè non hanno rapporti dopo un tot di anni di storia e quindi ecco bisogna capire il motivo perché molto spesso coincide con la nascita dei figli quindi la donna diventa molto presa diciamo dalla vita familiare dai figli ed ovviamente il tempo rimane quello e purtroppo si deve togliere alla coppia e agli aspetti sessuali in alcuni casi invece la passione svanisce o comunque la coppia non ha più rapporti perché ci sono delle problematiche all'interno della coppia però questo non viene comunicato dai partner verbalmente ma lo si comunica proprio attraverso questa sottrazione dai rapporti sessuali è come dire all'altro io ce l'ho con te e quindi non faccio sesso con te perché perché c'è qualche problema però ecco tutto quello che non viene detto verbalmente si riflette poi sull'aspetto sessuale se ti interrompo non potrebbe essere possibile magari una percentuale di casi che subentra diciamo una sorta di identificazione per cui lo vedi quasi come un parente e quindi subentra un tabù dell'incesto per cui ti decade proprio il sì succede anche questo e succede soprattutto quando comincia a svanire il sentimento quindi quando non c'è più l'amore e l'altro diventa un amico un fratello o una sorella in quel momento lì non c'è neanche più il desiderio sessuale perché l'altro non è più oggetto di passione erotica ma è un amico magari un confidente una persona con cui passare una giornata a fare il picnic in quel momento lì ovviamente non c'è più quella spinta sessuale che magari ci può essere invece con un'altra persona però lì è proprio quando il sentimento scema quando il sentimento non c'è più va a scemare anche l'aspetto dell'aspetto erotico l'aspetto della sessualità ma secondo te durante un rapporto di coppia magari lungo non è che alle volte si crea una confidenza che magari potrebbe essere poi eccessiva cioè magari condividere il bagno piuttosto che momenti che invece ti fanno perdere poi il mistero perché poi l'attrazione è data da un po' di mantenere un po' di mistero mantenere un po' di invece una simbiosi eccessiva potrebbe essere una delle cause o con cause questo è assolutamente vero assolutamente vero nel senso che la coppia non deve creare un eccessivo attaccamento non deve fondersi non ci deve essere una simbiosi ma comunque ogni partner deve mantenere la propria individualità cioè ci deve essere una differente azione all'interno della coppia cioè non devono essere un unicum i due partner e questo esempio del bagno è verissimo cioè non fatelo mai non condividete mai il bagno col partner cioè devono esserci degli spazi che sono solo propri e deve esserci qualcosa che rimane solo a noi e che l'altro non a cui l'altro non ha accesso può essere il bagno ma può essere anche l'ora di palestra cioè molte coppie fanno tutto insieme vanno in palestra insieme escono insieme lavorano insieme no non fatelo ognuno deve avere un proprio spazio una propria individualità dove l'altro non deve assolutamente accedere e questo fa bene alla coppia cioè si potrebbe pensare il contrario ma in realtà gli fa bene perché come dici giustamente si crea una simbiosi dove l'altro diventa un amico dove non c'è più quel mistero non c'è più dove insomma quella sorta di differenziazione tra l'uno e l'altro e quando questo viene a mancare poi si appievolisce il sentimento e anche la passione sì perché insomma ci sono alcune cose che secondo me andrebbero appunto tenute ben distinte perché questo e altri problemi altre cose secondo te diciamo qual è la soluzione però tu a queste qualcosa consiglieresti poi sicuramente prima di tutto indagherei il motivo per il quale è successo questa cosa perché a volte intervengono magari degli eventi all'interno della vita di coppia che possono determinare tutto questo prima di tutto capire perché è successo ecco mi interessa questa cosa qua tu che come come lavoro cioè perché penso che spesso il motivo non sia ben chiaro nella testa cioè nel senso che magari come dire le persone si rendono conto che ne so che piove però non sono reso conto di tutto quello che è avvenuto prima le nuvole che sono unite differenze di potenziale e poi pioggia no si rendono conto che non provano più attrazione ma poi se ti dici perché boh tu che metodo di indagine utilizzi nel tuo lavoro sicuramente con le coppie va fatto un lavoro molto complesso nel senso che quando si lavora con le coppie ognuno porta le proprie ragioni a volte litigano ma il motivo per il quale litigano non è quello reale sotto al motivo per il quale litigano c'è tanto altro ed è proprio quello che bisogna andare ad indagare e bisogna andare a scoprire perché quando arrivano dal terapeuta hanno una storia di problemi di difficoltà di non detti di mancate comunicazioni che si vanno a sommare quindi quando arrivano davanti allo psicologo o appunto dal terapeuta c'è veramente un lavoro grande da fare e da capire e lì ovviamente con dei colloqui di coppia quindi avendo entrambi davanti e vedendo anche le dinamiche della coppia quindi cosa succede come litigano come si parlano si va un po' a indagare tutto quello che c'è dietro perché davvero nelle coppie c'è tanto perché non è la somma delle parti la coppia ma è proprio è un terzo elemento che si crea perché si creano delle dinamiche che sono proprie e sono a sé stanti quindi non è la somma dei due partner di quello che uno fa e l'altro fa ma è quello che si crea tra questi due partner che va poi a determinare delle dinamiche molto complesse e quindi e poi a volte quando si sta male in amore ovviamente si si abbuffa ah ok eh sì ti volevo ancora dire una cosa su base della dinamica che ho un amico che è uno psicologo che tra l'altro lo saluto Alvaldo Cavallaro ha un canale anche YouTube lui vabbè ormai è un veterano perché ha 75 anni però mi raccontava che lui quando lavorava era in pensione faccio ancora qualcosina e quando aveva uno studio dove metteva quando vedeva una coppia aveva un divanetto a due posti più due sedie e vedeva da dove si sedevano le persone se ce n'era ancora o se non ce n'era perché se si sedevano entrambi sul divano vicini e diciamo che sapeva già che avrebbe risolto la questione se si sedevano entrambi sulle sedie nessuno dei due aveva intenzione di tornare assieme se si sedevano uno sulla sedia e uno sul divano quello seduto sul divano avrebbe voluto diciamo ricreare la coppia e mettere quello sulla sedia quindi in base a dove si posizionavano lui capiva già diciamo come questa cosa è verissima nel senso che molto spesso si crede che la coppia vada dallo psicologo di coppia o comunque dallo psicologo per sistemare le cose in realtà in realtà non è sempre così cioè a volte si va dallo psicologo anche per lasciarsi perché si creano molto spesso delle dinamiche dove c'è talmente quasi una dipendenza ed è difficile sottrarsi a quella coppia quelle dinamiche di coppia che disfunzionali nonostante questo è difficile togliersi e quindi a volte si va proprio dallo psicologo per capire come lasciarsi in altri casi invece c'è veramente un'intenzione a voler ricostruire quindi rimettere insieme un po' i pezzi e questo però ovviamente deve essere da entrambe le parti perché devono essere sulla stessa lunghezza d'onda avere lo stesso obiettivo altrimenti altrimenti niente altrimenti nulla e mi dicevi quindi il cibo facciamo vedere io ricordo ancora tanto ricordo Veronica Rossi youtuber anche è un canale psicologa youtuber esatto canale psicologia con ironia e libro il libro appena uscito faccio vedere di nuovo S.S.A. Buffata come gestire le emozioni che mettono appetito si trova anche su Amazon si trova su Amazon sì esatto è in vendita su Amazon Veronica Rossi e che ci racconti in questo libro se ci vuoi dare qualche dritta visto che è appena uscito allora io in questo libro diciamo partiamo da un presupposto che ho deciso di scriverlo perché la psicologia dell'alimentazione è un altro mio ambito in cui di cui mi occupo sì ho notato che nella maggior parte dei casi le domande che mi arrivavano da parte delle persone era proprio una difficoltà a gestire il rapporto con il cibo o meglio delle volte il cibo per alcune persone diviene davvero un elemento per sfogare e per appunto sì incanalare le proprie emozioni quindi mangiare non è più una cosa naturale è una cosa che ai fini della sopravvivenza ma diventa un modo per anestetizzare delle emozioni per gestire delle emozioni quando non si sa come fare a gestirle quindi sono arrabbiato mangio sono triste mangio perché fondamentalmente il cibo ha sì la capacità di colmare il vuoto dello stomaco perché riempie ma le sue proprietà intrinseche in alcuni casi può anche aiutare a farci sentire meglio per un brevissimo periodo di tempo ovviamente e poi in realtà ci si sente peggio dopo una buffata perché si sperimentano sentimenti di colpa di disprezzo verso quello che si è fatto la propria immagine corporea viene c'è un'insoddisfazione per la propria immagine corporea perché ovviamente quando le abbuffate sono costanti si hanno anche dei problemi sull'aspetto estetico e poi c'è anche un'ultima cosa da dire che molto spesso il cibo viene investito di significati e questo accade soprattutto quando siamo piccoli quando per esempio dopo aver ricevuto un buon voto a scuola la mamma o la nonna ci dà il gelato oppure sì questo quel cibo diventa un premio oppure i cibi che vengono mangiati in occasioni particolari insomma immagino non so la lasagna della domenica con della domenica pranzo con tutta la famiglia ecco se quel momento lì viene sperimentato come piacevole come pieno di amore pieno di affetto quella lasagna diventa un po' il simbolo dell'amore dell'affetto e quando da adulto avrò bisogno di amore di amore affetto e serenità mi affiderò queste sensazioni al cibo in quel caso alla lasagna banalmente parlando ecco io ho sentito ho letto da qualche parte che dicevano che un quarto di quello che mangiamo serve per farci vivere gli altri tre quarti servono per far vivere i medici diciamo così bella questa davverissima sì sì purtroppo è quasi un paradosso che viviamo in una società dove c'è un'abbondanza di cibo e facciamo le diete quindi abbiamo un'abbondanza di cibo veramente potremmo regalarla a chi ne ha più bisogno e però dobbiamo fare le diete proprio perché ne abbiamo troppo e il fatto di avere così tanto cibo a disposizione ci porta a consumarlo infatti è proprio è un'induzione come anche i programmi di cucina per esempio no? sì poi il cibo diciamo che è qualcosa di reperibile proprio cioè le tentrazioni sono forti perché dovunque vai pasticcerie cose supermercati con i vasetti di nutella diciamo e se abbuffate ci hanno diciamo trovi tante persone quindi tu che hanno che trasferiscono magari i problemi di coppia nel cibo c'è una dinamica frequente? sì sì assolutamente diciamo che è anche un po' quello che vediamo nei film no? la ragazza che viene lasciata che prende il barattolo di gelato e si mette davanti la tv a piangere col barattolone di gelato fondamentalmente accade così no? nei momenti di sconforto abbiamo bisogno di una sorta di di elemento che ci dia piacere e che ci allevi quello sconforto e molto spesso lo si trova appunto nel cibo quindi c'è una forte connessione diciamo che il cibo è molto connesso anche agli aspetti relazionali e sessuali per esempio le persone che si privano del cibo non dico che soffrano di anoressia ma comunque le persone che tendenzialmente hanno seguono diete molto restrittive o insomma si astengono dal mangiare dolci tendenzialmente anche nell'aspetto sessuale fanno la stessa cosa quindi si astengono anche dal piacere sessuale quindi come dire mi astengo dal piacere del cibo e mi astengo anche dal piacere sessuale quindi il cibo ha una forte connessione con quello che è l'aspetto emotivo e anche l'aspetto relazionale della coppia ma senti visto che parlavi di bulimia di anoressia e bulimia ma è vero anche il contrario cioè mentre l'anoressia vuol dire assinenza sessuale e la bulimia vuol dire eccesso sessuale sì può succedere anche questo nel senso che come ci comportiamo nei confronti del cibo si riflette anche in alcuni casi lo sottolineo sempre si riflette anche a quello che è il nostro comportamento nell'attività sessuale quindi un bulimico diciamo che avrà una dipendenza dal sesso diciamo sì non accade sempre questo è più frequente diciamo nell'astinenza da cibo e astinenza da sesso però è anche vero questo che se io ho una tendenza a sfogare le mie emozioni i miei sentimenti divorando qualcosa lo farò anche con il sesso quindi avrò bisogno di divorare il cibo e avrò bisogno anche di fare una buffata di sesso quindi che poi molto spesso in queste abbuffate e anche nella dipendenza sessuale non si prova piacere perché in quel momento e poi uno vomita tra l'altro non di solito questo infine in bocca per vomitare esatto e poi soprattutto le persone in quel momento non sono presenti in quello che stanno facendo quindi non ne traggono un beneficio cioè lo fanno con tale voracità da non accorgersi di quello che mangiano nel caso della buffata e di non accorgersi di cosa stanno facendo nel caso della sessualità cioè lo fanno perché sentono il bisogno ma non provano piacere perché non sono lì con la testa diciamo insomma non si godono quello che stanno facendo sì viene diciamo divorano come hai detto tu prima esatto ma le dinamiche di bulimia e anoressia sono diciamo cioè poi ci sono anche persone che alternano momenti bulimici momenti anoressici non mi sembra cioè sì come sono vuoi raccontarci un attimino non so se ne parliamo nel tuo libro di queste dinamiche sì gli aspetti diciamo del comportamento alimentare sono veramente multispaccettati nel senso che troviamo l'acqua lunghe tra l'altro più andiamo avanti negli anni e più aumentano i disturbi del comportamento alimentare troviamo addirittura dei nuovi dei nuovi disturbi del comportamento alimentare che fino a qualche anno fa neanche esistevano quindi è vero che ci sono anche queste queste alternanze tra tra aspetti di restrizione alimentare e abbuffate anzi molto spesso diciamo che la persona che incorre in una buffata poi per redimersi in un certo senso per per via del sentimento di colpa si priva del cibo quindi c'è proprio questa alternanza tra abbuffata e restrizione abbuffata e restrizione è un'alta lena in cui la persona difficilmente riesce a a uscire diventa veramente un circolo vizioso e quindi sì questo accade molto è fondamentalmente si mettono in atto delle condotte compensatorie e quindi ma senti ma tu che queste dinamiche che che tipo di diciamo di strategie utilizzi per superare queste dinamiche diciamo legate al cibo questo questo mal 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 utilizzo del cibo allora innanzitutto bisogna distinguere tra il vero e proprio disturbo alimentare che comunque va seguito in equip quindi addirittura ci sono delle strutture dove c'è un ricovero quindi la persona con disturbo alimentare sta dentro questa struttura dove si lavora in equip lontana dalla famiglia perché molto spesso la famiglia c'entra all'interno del disturbo e quindi c'è proprio un lavoro importante e soprattutto robusto cioè che dura anche molto tempo nel caso invece di un comportamento alimentare alterato che è quella cosa che mi capita più di frequente fondamentalmente quella con cui ha che fare quindi un comportamento alimentare un po' sopra le righe ma che non è un disturbo e in quel caso lì bisogna innanzitutto capire come si è strutturato quindi capire perché la persona è arrivata ad avere quel problema e più nella maggior parte del tempo la maggior parte dei casi succede che c'è questa persona che ha una difficoltà nel gestire le emozioni nel gestire quello che accade nella vita e trova nel cibo un modo per sfogarsi quindi la maggior parte dei casi succede questo e ovviamente dopo lì bisogna lavorare su quello che è successo nella sua vita sulle associazioni che questa persona ha creato quindi perché il cibo ha assunto quel significato lì e quindi poi si fa un lavoro più che altro si vanno a disinnescare degli automatismi che si sono creati nella persona quindi che fanno sì che un'emozione faccia scattare in automatico il comportamento del mangiare o del non mangiare perché si che ha coraggio emozionale diciamo cioè l'emozione cioè sono depresso per dire mangio sono oppure sono ansioso e smetto di mangiare sì sì esatto bisogna proprio capire questo e poi indagare anche la storia della persona perché molto spesso alcune problematiche arrivano dalla famiglia proprio da quando la persona era piccola che è stata diciamo istruita o comunque ha seguito delle regole particolari che l'hanno portata nel tempo poi ad avere un rapporto conflittuale col cibo perché purtroppo è così molto molte problematiche che emergono in età adulta arrivano dall'infanzia arrivano da qualcosa che è successo quando eravamo piccoli e quindi è proprio lì che bisogna andare a capire che cosa è successo e nel tuo libro di cosa di cosa tratta questo libro che se ce lo fai vedere ancora eccolo qui S.O.S. Abbuffate con i dolcini esatto e nel libro io parlo proprio parlo sì delle abbuffate ma in generale del comportamento alimentare alterato quindi di tutti quei casi in cui c'è un rapporto conflittuale col cibo parlo anche delle mode alimentari quindi del perché a volte ci si autoimpongono delle regole cioè devo mangiare lo zucchero di canna devo mangiare cinque porzioni di frutta al giorno bere due litri d'acqua cioè il corpo diventa in quel caso una macchina e si perde anche la capacità di sentire le esigenze del corpo si perde la capacità anche di capire quando si è sazi quando si ha fame proprio perché si seguono delle regole si seguono delle specifiche come dire sì delle specifiche regole alimentari che portano poi veramente ad avere difficoltà a sentire il proprio corpo quindi parlo anche di questi casi qui perché purtroppo la società di oggi ci propone continuamente modelli estetici canoni estetici ci dice come ci dobbiamo comportare che sport dobbiamo fare quanto ne dobbiamo fare cosa come mangiare e purtroppo essendo molti questi messaggi e continui un pochino siamo diciamo sovrastati da da tutti questi messaggi anche perché comunque cioè parlando di esperti ti dicono tutto il contrario di tutto nel dieta cioè ci sono dietologi anche medici magari titolati che dicono una cosa e altri altrettanto titolati che dicono esattamente l'opposto esattamente esattamente io personalmente mi sto trovando bene eliminando il glutine perché il glutine mi sono reso conto che mi dava fastidio e cercano di eliminare gli zuccheri e poi i salumi anche sì esatto ci sono alcune cose che ovviamente soprattutto quelle molto come dire non proprio naturali come per esempio il salume esatto che non è naturale ma con tanti conservanti tanto sale quelle cose possono dare fastidio il fatto è che noi riusciremmo a stare bene e mantenere anche la forma fisica cioè mantenerci in forma se sapessimo ascoltare il corpo perché fondamentalmente il nostro corpo ci dice sempre quello di cui ha bisogno è che non lo sappiamo ascoltare e a volte diciamo eh vabbè oggi ho mangiato la pasta ieri ho mangiato la pasta non la mangio anche oggi quando magari invece il nostro corpo avrebbe bisogno di pasta no? magari quella voglia di pasta è in realtà un'esigenza per esempio e quindi si va a perdere un po' la naturalezza dell'atto del mangiare che fondamentalmente è una cosa naturale no? quindi però purtroppo la società l'ha fatta diventare qualcosa di artefatto di costruito un po' e questo va poi a creare tutte quelle problematiche nei confronti del cibo quindi si creano questi rapporti conflittuali il cibo viene visto a volte quasi come un nemico quando in realtà è fonte di piacere no? e quindi e questo purtroppo è diciamo la causa di questo è da ricercare anche nella società sì sono anche delle cose che diano una sorta di magari almeno credo che alcune sostanze che non so tipo il cioccolato producono diciamo magari delle degli ormoni che comunque danno uno senso di benessere quindi se tu vivi una situazione di stress magari familiare eccetera diventi poi dipendente credo da queste cose il cioccolato infatti è considerato il comfort food per eccellenza no? il comfort food sono quei cibi preferiti a cui appunto diciamo con i quali ci sfoghiamo nei momenti di difficoltà no? e il cioccolato è quello un po' universale ognuno ha dei propri comfort food ma il cioccolato è quello che più si avvicina all'essere considerato universalmente accettato come comfort food proprio perché è in grado di sì perché è in grado di di far produrre al nostro cervello le sostanze del piacere quindi la serotonina e mangiando il cioccolato noi proviamo proviamo piacere quindi a volte la spinta verso il cioccolato è data anche da questo in realtà senti io ve l'ho fatta questa domanda perché avevo letto ho fatto anche forse qualche video in passato diciamo c'erano delle teorie credo che abbastanza empiriche comunque quindi non credo che abbiano poi tutta questa validità però erano carine che legavano il modo di mangiare alla sessualità cioè quindi tu invitavi uno o una cena vedevi come mangiava e potevi avere un come dire una una previsione di come sarebbe stato poi a letto insomma se uno un nuovo una persona nuova insomma tu sai qualche assonanza tra sì questo questo è vero nel senso che per il discorso che facevamo prima si dice che comunque chi si lascia andare al piacere del cibo poi si lascia andare anche al piacere sessuale viceversa chi si trattiene è invece la persona che si trattiene anche diciamo nell'aspetto sessuale vorrei dire una cosa a volte capita di vedere magari donne molto magre o anche uomini molto magri e e sono anche considerati un po' come dire poco simpatici no un po' altettosi hanno sempre quella quel modo un pochino freddo di approcciarsi e questo un po' si riflette nel senso che chi non ha questa capacità di abbandonarsi al piacere del cibo chi è estremamente contenuto poi lo fa ovviamente anche diciamo nell'aspetto sessuale questo sentivo anche avevo letto che ad esempio cioè le persone che magari mangiavano di corsa fruttolosamente erano fruttolose anche poi sessualmente invece quelli che stavano si gustavano lentamente le cose poi avevano un rapporto più sì anche questo è vero perché per esempio chi mangia molto velocemente è tendenzialmente una persona ansiosa le persone molto ansiose fanno tutto di corsa tutto velocemente perché hanno questa sorta di tempo che li sta rincorrendo e vogliono e questo è vero il fatto di mangiare è una cosa naturale è qualcosa che riflette anche un po' su certi aspetti la nostra personalità quindi come ci approcciamo al cibo determina un po' anche come ci approcciamo alla sessualità quindi se io mi approccio al cibo divorandolo mangiandolo velocemente quello che dicevamo prima farò lo stesso anche nella sessualità magari non godendomelo non godendomi neanche il momento no perché se faccio tutto così frettolosamente non ho neanche la capacità di gustarmi il momento di sentire il sapore di sentire l'odore di sentire la consistenza questo vale per il cibo e anche per il sesso allo stesso modo quindi sì è assolutamente così poi c'è anche da dire un'altra cosa che molto spesso quando si mangia soprattutto quando non conosciamo bene l'altra persona si tende un po' a nascondersi cioè a nascondere la propria vera natura infatti capita molto spesso che quando si esce a cena le prime volte in una coppia la donna a volte non mangia quello che vorrebbe mangiare si prende l'insalatina va a casa che ancora ha la fame quindi poi dopo va a mangiare i biscotti nella dispensa proprio per non dare quell'idea di essere così un po' sfacciato una persona che si lascia andare ai piaceri quindi bisogna vedere anche quanto la persona è se stessa nel momento in cui mangia e quanto in realtà sta un po' recitando per dare un'immagine di sé insomma all'altra persona e senti visto che il mio canale tratta anche la seduzione il cibo è la seduzione cosa cioè funziona sempre una cenetta diciamo che la cenetta di solito è il preliminare è il preliminare ancora prima dei preliminari il preliminare sì generalmente diciamo che comunque all'interno della cena c'è la condivisione del cibo il fatto di condividere il cibo avvicina molto le persone le fa sentire come se stessero condividendo qualcosa di importante poi durante la cena comunque c'è la possibilità di comunicare di insomma di parlare si è in un momento di intimità e quindi ovviamente si crea il mood giusto la situazione giusta che poi a volte può portare anche diciamo ad avere un rapporto sessuale poi vorrei sfatare il mito dei cibi afrodisiaci che purtroppo molti ricorrono a questi cibi afrodisiaci in realtà è stato visto che è più una leggenda che una verità il cibo volendo ogni cibo può essere afrodisiaco nel senso che il cibo può portare porta piacere e banalmente anche un pezzettino di cioccolato fondente può essere un potentissimo afrodisiaco quindi senti ma tu sei anche una ragazza giovane quindi non so se cucini se sei cuoca se cucini sì mi piace cucinare devo dire che ho imparato ultimamente nel senso che ma secondo secondo te una donna che sa cucinare è un'arma in più nella seduzione o no sicuramente sì perché l'uomo per certi aspetti ama molto essere accudito ama essere una delle skills che voglio è una donna che sape cucinare esatto è come diceva qualcuno la passione passa ma la fame resta esatto giustissimo te lo dico questo è vero è una donna che sape cucinare no è una cosa importante nel senso che adesso parliamo dell'uomo appunto ama essere accudito ama trovare una donna che si prenda cura di lui e e questo può avvenire anche attraverso la cucina quindi quando l'uomo vede che la donna cucina qualcosa per lui fatto apposta che sa cosa gli piace conosce i suoi gusti questo ovviamente non dico fondamentale ma è molto importante crea un legame ancora più più profondo no no questo è assolutamente importante infatti credo che ogni uomo tra tra i requisiti che cerca nella donna è proprio quello del saper cucinare perché mentre c'è quell'altro detto forse siciliano donna cuciniera prendela per mogliera donna prendela per amante sì è vero questo punto ci dice anche quanto in realtà il cibo e l'amore siano poi collegati perché si può dimostrare anche amore attraverso la cucina quindi la donna che si prodiga a cucinare il piatto preferito dell'uomo questo ovviamente viene valutato come come qualcosa di importante per la coppia no cioè che va a consolidare comunque io penso che non so quante relazioni siano iniziate con una cena ma penso che siano non dico quasi tutte una tappa fondamentale no per cui penso che ci sia proprio questa connessione stretta tra amore e cibo insomma quindi è improcedibile non è un caso che quando appunto nel momento in cui si cerca di avvicinarsi all'altra persona gli si propone di condividere una cena quindi di condividere il cibo perché il cibo diventa in quel momento lì qualcosa che va a creare un legame con l'altra persona e quindi è molto importante poi si è vicini si crea quella situazione giusta che poi può portare nel tempo ovviamente se sono compatibili può portare nel tempo poi a costruire una vera e propria relazione stabile anche sì 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 è un certo beh io ricordo quindi Veronica Rossi che è psicologa che lavora dove? a Terni giusto? lavoro a Terni sì esatto quale diciamo il ramo della psicologia tratti un ramo particolare o come? io mi occupo di psicologia clinica e di sessuologia poi ovviamente diciamo esatto esatto psicologa e sessuologa giusto giusto e poi ho degli ambiti diciamo dove diciamo dove sono più specializzata quindi che tratto un po' di più che appunto la psicologia dell'alimentazione la psicologia dello sport e anche del benessere quindi quello che riguarda tutte le tecniche di rilassamento il training autogeno tutta questa parte qua insomma psicocorporea diciamo e ma le persone giusto per una tua statistica vengono più per problemi legati alla sessualità o problematiche che non so tradizionali magari poi ci sono correlazioni strette però per dire la persona le persone che vengono il problema che almeno ti manifestano subito principalmente legato più alla sessualità oppure che ne so all'ansia allo stress o quello che è insomma la depressione nella top ten sicuramente in cima alla classifica metterei l'ansia quella è proprio l'ansia sì l'ansia è ormai è diventata la compagna di vita di ognuno quindi purtroppo sì l'ansia sicuramente e poi ovviamente però per il maschietto fa anche fallire sessualmente assolutamente sì sì infatti molto spesso quando le persone si rivolgono a me per problematiche disturbi sessuali eiaculazione precoce oppure anche disfunzione rettile parlando dell'uomo andando a scavare si trovano veramente delle problematiche legate all'ansia quindi quello che trovano nella sessualità quindi la disfunzione sessuale fondamentalmente è un sintomo che invece sta a identificare un problema più profondo per esempio appunto l'ansia quello sì diciamo che l'ansia o comunque qualsiasi altra o qualsiasi altro malessere psichico poi si riversa inevitabilmente anche nella sfera sessuale perché se non c'è un benessere psicologico non ci può essere un benessere a livello sessuale perché se non stai bene non vai a pensare insomma alla sessualità cioè è qualcosa che dimentichi no prima di tutto c'è il proprio benessere e poi la sessualità è qualcosa che viene dopo quindi se non c'è il benessere a volte non c'è neanche la sessualità ma senti Veronica è sempre così visto che siamo andati su questo filone ancora questo è più interessante ma le problematiche sessuali che ben diciamo che ti portano da te maschili e femminili quali sono anche qua la top top ten diciamo quelle maschili cioè una donna mediamente allora dunque nell'uomo sicuramente molto spesso problemi legati all'orgasmo quindi eiaculazione ritardata o precoce e molto spesso accade questo qui ritardata sì sì e anche questo diventa un problema in alcuni casi perché non c'è l'orgasmo potrebbe essere un beneficio cioè nel senso che sì diciamo che entro un certo lasso di tempo è ok da lì in poi diventa problematico perché poi la donna dopo un po' comincia a dire qua quant'è che finiamo quant'è che quindi dopo lì può diventare un problema a quel punto no il troppo il troppo e il troppo poco non vanno bene insomma ecco perché molto spesso ma c'è più ritardato o più precoce la cosa cioè su dieci che vengono per esempio generalmente l'eopulazione precoce generalmente poi ecco dopo dipende visto che sei una sessuologa e questa domanda qua mi è sempre rimasta lì cioè ma precoce perché come dire cosa vuol dire lungo corto alto basso relativo rispetto a anche che vuol dire precoce perché uno dice per me precoce perché io ho letto quel lì perché adesso devo sfatare una cosa no perché ci sono questi qua che dicono io ho letto non so se hai letto il libro di Paolo Coelho 11 minuti no questo mi manca devi leggere no questo puoi non leggerlo perché mi piace molto come autore 11 minuti leggere perché la storia ti faccio un riassunto breve di una prostituta brasiliana che poi diventa ricchissima dopo eccetera alla fine e racconta tutta la sua storia è romanzato e questi 11 minuti sono il tempo che i suoi clienti impiegavano diciamo aspettare la funzione penso travestirsi svestirsi fare e andarsene insomma tutto era 11 minuti lei aveva chiamato il libro e quindi e secondo lei che ne vedeva non so quanti al giorno perché faceva il cuore di mestiere era diciamo una aveva un osservatorio diciamo bene come dire su questo aveva un po' campionario insomma 11 minuti è precoce o no perché ad esempio se tu parli con molti uomini che raccontano dicono io un'ora due ore tre ore quattro ore cinque ore tra la notte cioè senti questi miti diciamo alla rocco no ma cosa vuol dire precoce questo mi interessa allora innanzitutto 11 minuti sono un tempo congruo nel senso che è stato stabilito che il rapporto la durata del rapporto sessuale quella diciamo ideale sta appunto tra i 7 gli 8 9 minuti quindi è qualcosa lo dico lo dico le nostre malgascione sottolineo capito malgascione che mi sentite non andate a cercare le ore qua 7-11 minuti 7-11 minuti è normale quindi non lamentatevi non rompete le scatole quindi direi che nel senso che poi è stato proprio rilevato che la donna dopo un po' si annoia nel senso dopo un tot di minuti perché fondamentalmente durante l'atto sessuale si creano delle modificazioni a livello psicocorporeo che sono dei fuochi d'artificio per così dire no e questa situazione non può essere mantenuta per lungo tempo cioè il cuore che batte all'impazzata il sangue che comincia a circolare veloce la sudorazione è qualcosa che il corpo non può mantenere per tanto tempo dopo un po' subentra neanche la noia ma proprio un affaticamento e non è più piacevole quindi dopo 7-8-9-10 minuti 11 direi che è a posto va benissimo tornando al discorso dell'eiaculazione precoce anche lì non è che c'è una tempistica generalmente appunto la persona prova una difficoltà o comunque un disagio perché molto spesso l'eiaculazione avviene prima della penetrazione oppure si oppure capita che dicano ho fatto due tre movimenti e ho avuto l'orgasmo quindi parliamo di in alcuni casi di secondi o quasi quasi un minuto ecco non è che c'è una tempistica che col cronometro si valuta se è precoce oppure no però ecco ci sono dei casi in cui è insomma è evidente che c'è un problema su quell'aspetto in alcuni casi appunto c'è l'orgasmo quindi l'eiaculazione prima addirittura della penetrazione in alcuni casi dopo una due spinte quindi ecco la donna ovviamente a volte finge di essere soddisfatta altre volte lo dice apertamente però comunque l'uomo ci accorge che c'è qualcosa che non va e quindi chiede aiuto ecco poi magari se voglia visto adesso è passata un'ora ci facciamo un'altra puntata su queste tematiche sono interessanti perché a me viene sempre in mente una persona che una volta mi aveva detto una donna mi aveva detto che lei fingeva sistematicamente con sto tipo poi quando si erano lasciati dopo un po' sono lasciati lui ha detto eh tra noi non funzionava niente l'unica cosa che funzionava era la sensualità secondo lui talmente che non si accorgeva di niente evidentemente cioè beh per le donne è molto facile nel senso che l'uomo avrebbe un po' più difficoltà a simulare la donna invece volendo riesce poi quando c'è molta complicità nella coppia il partner se ne accorge anche perché non sente le contrazioni che invece dovrebbero esserci una serie di cose quindi quando c'è molta complicità il partner a volte se ne accorge evidentemente lei è stata molto brava a fingere perché se lui non se ne è accorto per tutto questo tempo però diciamo che è una prerogativa della donna l'uomo per ovvi motivi avrebbe delle difficoltà a nasconderlo quindi anzi diciamo che a volte le donne riescono a nascondere anche dei disturbi sessuali che emergono nel momento in cui ha bisogno cioè o sente il desiderio di diventare madre quindi la donna riesce benissimo a nasconderli anche al partner in certi casi l'uomo no quindi siete un po' più sfortunati sotto questo questo è vero beh mi ha fatto molto piacere comunque sei prenotata per un'altra per un'altra intervista magari settimana prossima che dici con estremo piacere certo siamo già per la settimana prossima un'altra cosa perché questi temi credo che piacciono insomma e allora niente facci vedere ancora il libro ricordo Veronica Rossi un canale YouTube che si chiama psicologia con ironia lascio il link andate a scrivervi però anche iscrittrice anche sessuologa è su essa buffata e lavora a Terni e la vedremo la settimana prossima quindi di nuovo per una tematica perché sei molto brava e molto simpatico mi fa molto piacere grazie niente per questa puntata che abbiamo fatto già un'ora e tre poi dopo diventa eccessivamente lungo e quindi facciamo una doppia puntata volentieri con tanto piacere ciao Massimo e ciao a tutti grazie ciao 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 ciao